Buonasera ben ritrovati a confronti il programma settimanale organizzato in collaborazione con l'ufficio stampa del consiglio provinciale di Trento vi presento subito gli ospiti di questa sera Ivano Iob consigliere provinciale del gruppo misto buonasera buonasera a voi uscito dalla lega ma rimasto in maggioranza e per la minoranza invece Luca Zeni consigliere provinciale del partito democratico buonasera Zeni anche a lei grazie per essere qui con noi allora iniziamo subito con i nostri argomenti anche perché la prossima settimana il consiglio provinciale torna a riunirsi il disegno di legge principale che varrà discusso è quello sulla riforma delle comunità di valle questo ente intermedio fra la provincia e i comuni che riguarda evidentemente la governance del territorio comunità di valle che sono commissariate da quasi due anni proprio perché sono in attesa di questa riforma se mi permettete consiglieri faccio un piccolo escursus poi chiedo a voi l'opinione sulla riforma allora le comunità di valle innanzitutto si occupano di politiche sociali e di pianificazione urbanistica la precedente riforma era stata contestata in particolare dal centro destra che considerava le comunità di valle un qualcosa di calato sulla testa dei comuni senza coinvolgerli poi il tiro è stato comunque in parte corretto adesso questa riforma vorrebbe dare ulteriore protagonismo ai comuni comuni che però attraverso i sindaci hanno espresso anche le loro perplessità a partire dalla governance per esempio secondo loro secondo alcuni sindaci insomma non andrebbe bene il fatto che la presidenza fosse affidata ad uno dei sindaci dei comuni che fanno parte della comunità di valle ci sono anche altri temi allora io parto con iob e chiedo va bene questa riforma si poteva usare qualcosa di più qual è il suo spirito io ultimamente ho uno spirito come i primi anni da quando sono stato letto consigliere positivo e propositivo però su questa su questo disegno di legge che adesso diventerà legge ma io mi auguro che non lo diventi a breve ma mi auguro che l'assessore se non dovesse trovare in aula le giuste correzioni possa posticiparlo ormai abbiamo aspettato fino a oggi non è qualche non sarà qualche mese in più a creare disagio per me non è un ottimo disegno di legge non è un ottimo disegno di legge perché soprattutto nel nel fatto di di voler imporre questo questo presidente che deve debba essere o un sindaco o comunque una persona che arriva uomo o donna dalla dai consigli comunali personalmente non è corretto cioè lei dice potrebbe essere anche uno della società civile io ho presentato assieme al collega Marini alcuni emendamenti e proprio perché credo che la comunità di valle abbia due due percorsi futuri uno si va avanti con l'idea che c'era di smantellarla e se ricostituisce in un altro modo oppure si rinforza cioè allora se dobbiamo decidere per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini se dobbiamo utilizzare la comunità di valle per avere delle risposte soprattutto nelle periferie immediate risposte importanti soprattutto nel sociale allora dobbiamo dare la possibilità ai tutti i cittadini di poter averne la presidenza e soprattutto mettere in condizioni i sindaci di evitare soprattutto nelle comunità più piccole delle liti interne perché il campanilismo il problema di un sindaco che deve fare oltre che il sindaco anche il presidente il problema di un consigliere che potrebbe essere presidente ma dovrebbe rispondere al sindaco cioè i cittadini trentini i nostri ascoltatori devono sapere che questo nuovo modo che non è un nuovo modo ma l'abbiamo reeditato da chi ha fatto nascere la nostra provincia autonoma è di rendere i territori soprattutto le periferie più autonome quindi nel loro piccolo le nostre comunità soprattutto le periferiche hanno bisogno di questa trasparenza quindi io in aula assolutamente su questo punto sarò diciamo deciso ma mi auguro ripeto perché ho una massima fiducia nell'assessore gotardi uomo di esperienza comunale quindi già sindaco e credo che troveremo un accordo mi auguro che ci sia che ci sarà durante il lavoro un'evoluzione e se dovesse succedere un impasse prendiamoci un po' di tempo ma portiamo a casa qualcosa di ben fatto per i cittadini perché questo ci si aspetta non solo all'interno delle delle stanze politiche ma soprattutto si aspetta sul territorio quindi personalmente sono abbastanza deciso per seguire questo obiettivo. Tra l'altro appunto se ne è parlato proprio nell'aula di piazza Dante fra il consiglio provinciale anche il consiglio delle autonomie allora Zeni abbiamo sentito comunque una voce critica anche dentro la maggioranza l'opposizione che posizione ha in particolare appunto la sua idea? Quando si parla di riforme istituzionali solitamente si parla di questioni fondamentali grosse vuol dire come il sistema pubblico le istituzioni erogano i servizi ai cittadini come pianificano come equilibriano i rapporti tra i diversi livelli cose molto importanti ecco come abbiamo sentito anche dal collega Job che si è focalizzato su quello che forse è la questione più rilevante effettivamente di questa proposta di tutto questo non si parla questa è veramente pretenzioso definirla riforma perché avevamo avuto una campagna elettorale dove la Lega in particolare aveva fatto una forte campagna dicendo aboliremo il carrozzone comunità di valle ci sono voluti tre anni e mezzo dove di fatto si è messa in grossa difficoltà anche l'erogazione dei servizi con due anni di commissariamento quindi che hanno reso più difficile delle competenze importanti che lei ha ricordato la pianificazione del territorio l'erogazione di servizi sociali molto importanti ecco dopo tre anni e mezzo si arriva a dire modifichiamo qualcosa nella governance cosa quindi molto diciamo per addetta ai lavori questione dell'assemblea del presidente ci sono state delle osservazioni del consiglio dell'autonomia mi pare che anche su queste anche noi abbiamo fatto degli emendamenti che vanno nella direzione di lasciare più apertura per poi la decisione rispetto a chi deve andare a ricoprire questi ruoli mi pare che alla fine ci sarà anche probabilmente un recepimento c'è stata una riunione del cal nei giorni scorsi che andava in questa direzione per cui alla fine la montagna ha partorito il topolino l'assetto delle comunità di valle questo ente intermedio tra province e comuni che ci si è resi conto evidentemente anche la maggioranza si è resa conto che hanno una funzione importante che se le togli o dai ai comuni che però non sono in grado di gestire certe competenze oppure accentri tutto sulla provincia andando ad allontanare quindi vuol dire che quel quel modello era un modello che oggi la maggioranza conferma avere una logica va a modificare qualcosina dopo tre anni e mezzo bastava probabilmente mezz'ora a inizio legislatura si poteva fare la stessa cosa prendiamo atto quindi non ci sarà credo una opposizione particolare perché questa è una mini riforma che di fatto conferma l'impianto e va ad adattare alcuni aspetti nel modello organizzativo interno e su cui c'è una confronto ancora un po aperto ma mi pare che si troverà la quadra. In questo senso allora entrambi però dite che in qualche modo se bisogna dare mano a una riforma bisogna anche avere più coraggio cosa avrebbe fatto lei? Lei ha detto no? O le si smantellano o gli si dà veramente forza e una identità precisa. Nella parola smantellare era un'espressione diciamo anche veloce per dire o togliamo degli specifici doveri alle comunità e le alleggeriamo magari interessando di più i municipi comuni però sappiamo che soprattutto quelle che sono le periferie ci sono dei comuni molto piccoli non riuscirebbero a fare determinati lavori e determinate competenze sono impossibili da gestire per i piccoli comuni. Quindi l'alternativa bisogna rinforzarle ma rinforzarle deve proprio essere un lavoro secondo me più importante di quello presentato. Io in verità dopo tre anni e mezzo mi sarei aspettato una forzatura da parte del CAL, mi sarei aspettato un territorio che interveniva e diceva e provincia guarda che ci avevi detto che avresti fatto questo e quindi mi sarei aspettato dai sindaci anche un intervento di questo tipo quindi credo che e va giustificato perché non voglio cercare nel covid la giustificazione però i sindaci hanno avuto periodi difficili come tutti i cittadini trentini però mi sarei aspettato quasi quasi un ritorno d'orgoglio uno scatto d'orgoglio una presa di posizione importante e quindi credo che forse non aver mosso nulla faccia anche comodo a molti amministratori pubblici. Zeni? Il punto vero è che noi abbiamo un territorio di montagna con delle valli che hanno delle peculiarità ma che devono essere sistema quindi si tratta il concetto di autonomia è sempre quello di relazione quello di riuscire a muoversi su livelli che si parlano tra loro e non con dei muri ecco che quindi l'idea che ci sia una capacità di pianificare un territorio omogeneo e in questo senso ecco anche la critica all'ultime proposte sul misuratore per i comuni dove fai la classifica dei comuni e non tieni conto che invece sono dentro un contesto e tu su quel contesto devi lavorare. Allora la comunità di valle ha delle funzioni dicevamo importanti serve comunque la provincia che deve riassumere anche una capacità di coordinamento se vogliamo dare delle una programmazione più generale che garantisca equità le comunità devono avere forza e i comuni devono riconoscere questa questa capacità cioè si ragiona sempre su livelli non per compartimenti stagni ecco quindi ogni iniziativa che va in questa direzione tutela il concetto il principio di autonomia e permette anche di rendere sostenibile il sistema e dare più servizi poi ai cittadini. Chiarissimo. Trenta secondi quando lei dice ha fatto comodo allude alle elezioni provinciali del prossimo anno? Non alludo faccio proprio riferimento a quello. Ah ok perfetto. Allora Iob cambiamo argomento lei presiede la terza commissione che in questi giorni si è occupata di rifiuti il problema è quello della discarica di schiappodetti a Trento che di fatto è esaurita come misure di emergenza prese nei mesi scorsi oltre a conferire ulteriore quota di rifiuti fuori di provincia erano state aperte le discariche di Imer e Monclassico. Quali sono gli aggiornamenti emersi? Gli aggiornamenti emersi riguardano soprattutto Imer. Imer verrà chiusa il giorno 30. La provincia autonoma si è tramite la nostra amministrazione quindi tramite la nostra giunta ma credo che si possa dire proprio la provincia perché bisogna cominciare a capire che certe situazioni sono di tutti quindi i rifiuti sono di tutti ma c'è chi ne deve poi predisporre e disporre e risolvere i problemi. Imer verrà chiusa il giorno 30. È stata un'apertura io dico non prevista perché nessuno se l'aspettava. Io ai tempi del 2015 quando furono chiuse Imer e Monclassico ero proprio amministratore a Monclassico e per noi amministratori dell'epoca erano chiuse. La provincia si è trovata in difficoltà, il Trentino si è trovato in difficoltà, la soluzione provvisoria perché non è definitiva di riaprire le due discariche è servita. Imer erano previsti a 8.000 tonnellate e ne sono state portate circa 5.500, però ecco la cosa importante è che questa volta la provincia autonoma di Trento ha mantenuto la parola, anche se incrocio le dita perché manca una settimana ma ho la massima fiducia, la provincia ha mantenuto la parola, il giorno 30 verrà chiusa la discarica di Imer e quindi da lì in poi si parlerà solamente di lavori per il capping, per la copertura finale, per predisporre quindi a un futuro per il Primiero e succederà il 31 ottobre comunque in autunno a Monclassico, quindi una cosa non bella, non simpatica però si sono mantenuti certi impegni e questo i cittadini trentini è giusto lo sappiano ed è giusto anche parlarne qui quindi per una volta o comunque anche, no, la parola giusta è anche questa volta la provincia ha mantenuto l'impegno. Certo è che il problema rimane, cioè quello della gestione dei rifiuti proprio in terza commissione è intervenuto l'assessore Tonina che insomma non ha usato mezzi termini o si dà avvio alla realizzazione di un gasificatore, c'è questo impianto con tecnologie avanzate che ha lo studio dell'università e presto l'università presenterà anche i risultati di questo studio oppure l'alternativa è portare i rifiuti circa 60.000 tonnellate fuori provincia con evidenti costi che poi vanno a ripercuotersi anche sulle bollette. Che fare allora, Zeni, anche perché in qualche modo no, anche le precedenti amministrazioni alla fine non avevano quagliato a riguardo della gestione dei rifiuti o almeno su un impianto? Ma in realtà se andiamo a vedere la documentazione, quello che è agli atti, il piano rifiuti che vedeva la firma dell'assessore Gilmozzi era molto chiaro, l'importante quando si affrontano queste tematiche così rilevanti è avere analisi, programmazione e un quadro definito. In quel piano si prevedeva un modello che è quello che la provincia ha fatto crescere negli anni di una forte quota di differenziazione, un accordo con la provincia di Bolzano che ha un inceneritore sovradimensionato per Bolzano e che peraltro ha disincentivato in quel contesto la differenziata e che grazie a quell'accordo si prevedeva il conferimento di 20.000 tonnellate all'anno da Trentino. Un piano che prevedeva una serie di cose, diciamo uno smaltimento diverso del tessile sanitario, quindi pannoloni, che prevedeva la possibilità di utilizzo di materiale, diciamo per non il termovalorizzatore ma per impianti termici di tipo diverso, ecco quindi c'era un disegno che si basava su dell'analisi, si poteva condividere o meno, quando la chiusura si ipotizzò di farla con l'inceneritore qui si capì che non era sostenibile perché per quella quota residua non valeva la pena e infatti nessuno poi partecipò al bando. Allora questo cosa significa? Significa che queste sono cose che devono essere gestite. In quasi 4 anni oggi la Giunta è arrivata in emergenza a riaprire delle discariche, adesso avrà anche rispettato l'impegno di chiuderle ma l'aveva nel frattempo riaperte e non c'è in questo momento la possibilità per noi, per noi consiglieri ma anche per i cittadini di vedere delle analisi perché di fatto si è demandato la Giunta la valutazione, le decisioni e quindi quando le avranno fatte ce le comunicheranno ma questo invece è proprio un tema dove anche magari attraverso il lavoro della Commissione capire bene le diverse analisi e il modello che si vuole portare avanti perché se uno dice oggi facciamo l'inceneritore probabilmente ha in mente un modello che prevede una riduzione della differenziata, un conferimento diverso oppure un impegno economico molto importante della provincia che vada a tenere basse le tariffe, quindi questo c'è da un lato un ragionamento di sistema che va fatto con le altre regioni, con Bolzano è una questione politica riuscire a rinnovare degli accordi che c'erano e che possono essere potenziati di conferimento di una quota del nostro residuo perché a loro converrebbe e perché li rende più sostenibili economicamente a loro e conviene a noi mandarlo a Bolzano che altrove. Ecco quindi sono tutti ragionamenti che però necessitano di una capacità di affrontare il problema alla radice con analisi e anche con la capacità politica di avere una visione complessiva. Lei dice in questo momento non si hanno in mano gli strumenti per poter dire qualcosa anche in merito? No, non si hanno in mano, non abbiamo gli elementi su cui la giunta provinciale intende decidere. A me pare che come sulla comunità di valle, come sull'ospedale, come su tutta una serie di cose si tende sempre a inseguire un po' l'emergenza e rimandare, rimandare, rimandare. Faccio rispondere io perché poi c'è anche un altro argomento che vorrei affrontare. È stato accennato dal collega Zeni il quarto aggiornamento quindi i lavori della precedente giunta, l'assessore Gilmozzi, stiamo prontando, la nostra giunta adesso porterà avanti il quinto piano dei rifiuti provinciali e verrà discusso e verrà concluso, mi auguro entro dicembre, fidandomi delle tempistiche provinciali perché fossero tempistiche private e mi verrebbe da dire che sarebbe finito per la settimana scorsa, ma siccome siamo in un sistema pubblico che ha i propri tempi e le proprie procedure burocratiche, ma entro l'anno noi ci siamo impegnati, ma non solo noi come maggioranza, ma noi consiglieri dobbiamo dare al Trentino una risposta che sia di un tipo, che sia di un altro, che sia di un altro, i Trentini non solo la meritano, va data perché altrimenti non ci siamo, c'è le forniature, gli acquedotti, le immondizie, sono la base. Dopo c'è la politica quella alta che viene nominata nelle aule, ma queste cose qui non possiamo trascurarle, quindi non solo l'assessore Tonina ma anche il sottoscritto, ma tutti i consiglieri entro fine anno porteranno al risultato a casa e mi auguro che sia condiviso da tutti un piano per i rifiuti che sia un piano lungimirante, ma soprattutto che sia un piano per un Trentino veramente diverso forse anche dalle altre regioni. anche perché poi si entra in clima preelettorale e non è un argomento proprio semplice. Per chiudere su questo però, bene, sappiamo che si è data questa scadenza, sarebbe bello che in questo momento quale modello la maggioranza intende portare avanti, su quali analisi intende basare quel piano da portare entro dicembre? Forse più trasparente, aperto, invece mi pare che sia molto delegato e quindi bene, la Giunta predisporrà, quando avrà deciso ce lo comunicherà e inizieremo la discussione, però attendiamo. Lo sapremo entro agosto, entro la fine di luglio abbiamo questo accordo verbale, aspettiamocelo. Allora abbiamo avuto questa anche anticipazione. Ci mancano quattro minuti per affrontare un tema che potrebbe implicare un'intera puntata. Zeni, nei giorni scorsi lei, consiglieri Zanella, De Magri e Rossi, avete tenuto una conferenza stampa tracciando un quadro impietoso della gestione della sanità trentina. Allora in quattro minuti è difficile ripercorrere tutto quanto avete detto, ma qual è il problema principale? Il problema principale è che... Dalla sua voce che è anche un ex assessore alla sanità. Ma purtroppo questi sono degli elementi che si basano sui riscontri e sicuramente bisogna riconoscerlo. Sono stati anni difficili, c'è stato il Covid, però se andiamo a vedere la comparazione e cioè cosa succede nelle altre regioni, vediamo che la situazione non è peggiorata come in Trentino e questo è l'elemento che ti fa capire se si sono affrontati problemi, se la gestione è stata positiva o meno positiva o negativa. Ecco, oggi siamo in una situazione molto difficile, ci sono tempistiche molto lunghe sulle liste di attesa, ci sono tempistiche e difficoltà sulle operazioni, c'è carenza di medici ma non solo per motivi di contesto, perché ovunque mancano i medici, medici che si licenziano dal sistema pubblico per andare nel privato convenzionato o addirittura per essere riassunti nel pubblico in libera professione. Cioè questo denota una mancanza di prospettiva e quindi di capacità di attrattività del sistema che è sempre stato il nostro punto di forza. Per noi la forza era la reputazione, il sistema sanitario trentino in giro per l'Italia era riconosciuto come un buon sistema e quindi anche capace di mantenere chi ci lavorava e attrarre da fuori. Oggi questa reputazione è purtroppo cambiata e da qui una serie di difficoltà programmatorie e organizzative. Per questo abbiamo cercato di stimolare in maniera forte la Giunta in particolare dicendo guardate la situazione è molto difficile, che ci rimettono, sono i cittadini, c'è una forte tendenza verso la privatizzazione della sanità e questo è il problema vero. Noi abbiamo un sistema che si è sempre basato sul pubblico e ha utilizzato il privato in maniera ridotta. Oggi si sta valorizzando molto il privato andando verso modelli che non sono il nostro e questo rischia di penalizzare il concetto di sanità per tutti. Il fatto che l'ex assessore dica che la nostra sanità era da tutti guardata come una delle sanità migliori è sempre soggettivo perché qualche... No, scusate, su questo no. Ci sono degli studi comparativi, la sanità è forse il settore più monitorato di tutti. Se mi fa finire la frase, ho detto che è soggettivo. Non è soggettivo, ci sono le statistiche, gli studi. Va bene, le statistiche è soggettivo. È già successo un'altra volta che si parlava di sanità e io quando andiamo sul discorso sanità vado sempre a fare degli esempi. Non è che esiste una sanità migliore di un'altra. Esistono sanità, esistono delle situazioni dove torna comodo strutturare in un certo modo. Faccio un esempio. Un assessore può decidere, riduco magari i servizi perché ho poco personale, oppure ho molti medici, cerco di tenere quelli più bravi e magari gli altri gli dico guardate andate all'altra parte. Ogni assessore può, o sistema sanitario, può gestirsela. Questa maggioranza, credo in questo momento, forse se c'è da fare una critica, è magari che qualche volta bisognerebbe cercare di ridurre un po' i servizi, però i cittadini trentini che sono abituati storicamente a avere un servizio d'eccellenza, arrivavo sulla frase, no? Sono abituati i trentini a avere un servizio d'eccellenza, ma non vuol dire che sia un servizio a livello internazionale o italiano migliore di altri. Abbiamo sempre avuto un servizio d'eccellenza. Anche oggi si cerca di offrirlo. Vero è che oggi mancano medici, mancano medici in tutta Italia, questo è riconosciuto anche dal collega. Ci sono situazioni particolari, poi quello che a me dà molto fastidio è che non solo oggi, anche prima, quando un cittadino vuole andare a fare un'operazione, se deve andare nel pubblico deve aspettare un anno, e l'ha detto anche lei, anche Zeni, e quando invece, sempre in forma privata, capita che lo stesso dottore dopo 15 giorni ti opera. Questo è che è da cambiare, questo è da cambiare, e noi abbiamo l'autonomia, e è una delle cose che adesso mi impegnerò a sollecitare anch'io, perché alcune cose sono successe negli anni e ancora succedono, quindi c'è da lavorare. Se posso invitare il collega Iob, il 15 luglio a Cles, quindi vicino a casa sua, faremo un incontro pubblico in piazza con l'ex ministro della sanità Lorenzin, come gruppo consigliare, e quindi parleremo proprio in particolare di sanità e territorio, e sarà un incontro aperto dove potremo parlarne. E lì proseguire al dibattito, anche perché noi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, grazie consigliere Zeni, grazie consigliere Iob, grazie a voi per averci seguito, arrivederci.